Musica Andiamo con i crimini ragazzi Hanno rilevato un crimine qua vicino E andremo subito a fare Magari riuscissi a procurarmi Un piccolo veicolo Un piccolo veicolo Che questo è comodissimo Insomma non è comodissimo Però almeno il suolo fa Bisogna andare nella zona E cercare di indagare tramite l'hackeraggio I veri bastardi Che stanno commettendo crimini Che poi in realtà prima di commettere crimini siamo noi però Quello mamma non lo deve sapere E' dentro il cimitero quindi c'è da Entrare da qua Dispiace abbandonare Tacos in mezzo alla strada E apriamo profiler e vediamo Chi indagare Ah Assassin's Creed style Anche perché è l'unica persona qua Bastardo volevi eh Chiminale neutralizzato 500 XP E vamos Andiamo con un altro crimine ragazzi 240 metri Non morire Bravo Anche se tipo quello di GTA si sarebbe Spiattellato malissimo Potenziali vittima Vabbè è una donna Sicuramente vittima lei Non è una battuta sessista Ma purtroppo Che succederà niente È la verità Non voglio nessun guai Forza Adesso Ecco Non farmi No Amore Amore Faccio a fermarlo Polizia serve la polizia avete capito Moltipiglio 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 Vabbè metteteci anche la polizia Dove ci siete 13 metri Dai che ti piglio No Non lo faccio esplodere Sarò più gentile Verso di lui Ho capito polizia Però stava molestando una donna Io ho fatto un'azione Ho fatto un atto di bene Per la città Non mi devi trattare così Vabbè L'evento l'ho completato Volendo Adesso morirò Ma a me sta bene così E vaffanculo Eh non so come andarvi in culo Se no Se non a nuoto Guarda che mi è venuta a prendere anche con l'elicottero Mi pare un po' esagerato E se sparo Peggioro la mia situazione Sì io poliziotti ho capito le vostre intenzioni Però Dovete capire che io ho salvato una povera donna Vi ho tolto un criminale dalla città Dovete capire quello Quello dovete capire Perché non lo capite Che io sono una persona buona Quattro stelle Oh Stonks Ma tipo posso navigare? Posso navigare? Sì Devi mettersi alla guida Ho premuto Minchia quanto viaggia sto coso Ciao Dove sono? Ok posso andare dritto Vabbè con sto coso che mi insegue sarà un po' difficile Vi lascio così E ragazzi andiamo avanti con le missioni secondarie Adesso qua c'è un rilevamento crimine Ricordo che sono 20 Ottima guida Brava Mi ha fatto marire Allora è qui Bisogna profilare le persone Devo stare attento Non dovrebbe essere lontano Ehi Allora Hai portato quella roba oppure no? Un altro giorno ancora E poi te lo darò No così non va bene È ora di morire Imbecille Lascia Mi conviene Le parti Tranquilo Bene Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Comunque è lui Palese Sì qua gli inseguimenti durano un pochino Ma ci si arriva Ci si arriva Adesso sto guadagnando soldi come un bastardo Solo inseguendo sto tizio Dai 5 metri è buona È buonissima Atterrato Ucciso O qualcosa di simile E crimine rilevato ragazzi Vi tiriamo i soldi nel frattempo 11.000 Sti cazzi 500 xp E puntuabilità Prossima destination Crimine Oh vediamo qua Potenziale vittima 24% Vediamo che succede Lui non è una vittima Ma è una persona molto ricca Il 2340 Quindi Pensi di potertene andare così No 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 Buono Stammi lontano Abbiamo chiuso Non è finita Finché non lo dico io Mi spaveggi Ti prego basta Allora si interviene Si incorre 460 Dai 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 Non sono così difficili questi Ma l'ho detto I prossimi tipo saranno impossibili sicuro Ok Più o meno è 5 Barra 4 metri La distanza La distanza Per cui fa il salto E lo prende T'ho fregato T'ho fregato T'ho fregato malissimo Ragazzi andiamo al sesto crimine da rilevare su 20 Che forse sono quelli un po' purognosi perché Ti capitano così dal nulla Mentre invece gli altri sono ben definiti sulla mappa Allora Eh però vanno trovati Bene È vicino Ora devo solo trovarlo Dove va? Direi che viene qua dentro Ti prego Vieni 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 Oh 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 Subito così Subito così signori Un altro crimine neutralizzato Siamo a 6 su 20 E allora Arrivamento crimine magari Senza ammazzare tutti Aspetta a te c'è soldi 360 Meglio di nulla Bene Troviamo Tu potresti essere la vittima E facciamola finita Eh stronzino eh Te sei il crimine Eh need a telecamera No ti prego no Ma vaffanculo Vieni vieni che intanto T'ho malmenato Eh non mi sei ricaricato Raga Scappa scappa Che poi ti fa scappare io Vedrai quando ti apre la valvola Cose del genere Perfetto Naturalizzato Stai zitto Oddio non voglio morire Ecco Allora muto Mi è stato nonno ok Bellissimo 7 su 20 crimini rilevati Siamo quasi a metà ragazzi Criminello da rilevare Cosa mi proponi A me criminelli sono facili dai Tu non puoi essere Né uno né l'altro Potenziale vittima Ecco lo stronzo Ehi guardami stronzo No L'ho preso L'ho preso Perfetto Reputazione lamentata E andiamo così C'è un altro qua vero Yes Eccoci qui Allora E' sicuramente dietro questa Chiamiamola staccionata Anche se Non è il termine corretto Potenziale vittima Quindi posso far esplodere tutto No Maglio di no A parte se lo uccide si Ehi Ho un messaggio per te Non muoce Cosa guardi Eh bastardo E' scappato Ma lo prendiamo Lo prendiamo Ma come chiami la polizia Brutta merda 9-1-1 La natura dell'emergia Aiuto Spara sulla gente Ma non sono io Basta sto bastardo Neutralizzato? Neutralizzato Preso Boom Adesso mi tocca anche scappare Giustamente Ma va bene Qua sarà più easy Dai Due chiamiamo le stelle Anche se sono due riquadri Il sospetto deve essere vicino Cerchiamo ancora 9 su 20 crimini rilevati Not bad At all Centrale Il sospetto è sparito Il crimine E con questo Andremo esattamente A metà Stavo andando In un'altra parte Esattamente A metà Della Faccenda Rilevamento crimini Allora Sei tu? Sei troppo lontano però Non ci sono telecamere qua Hai parlato con gente Che qui non dovevi farlo Non so proprio di che cosa Hai problemi Boom Perfetto A posto Dieci Crimini sventati Esatti Vittima illesa Più rispetto E un'altra arma sbloccata Che è croma Che è rilevamento